Anche alla Spezia è stato istituito il coordinamento democrazia costituzionale e il 9 sabato sarete al centro all'enda alle 17 per spiegare in qualche modo le ragioni del no proprio in merito alla riforma della Costituzione. Ma non solo, c'è anche in essere il referendum per l'abrogazione della legge elettorale che lì come cittadini saremo costretti a votare sì ovviamente, questa è l'indicazione che diamo noi. Ecco, è interessante questa iniziativa perché abbiamo pensato di fare intervenire un professore di diritto costituzionale, docente dell'Università degli Studi di Pisa, il professore Saule Panizza, il quale appunto avendo le competenze parlerà alla cittadinanza che invitiamo in questa occasione ad intervenire copiosa alla nostra iniziativa. Questa verrà sabato presso il centro all'enda alle ore 17 e chiediamo appunto di intervenire. Mi preme però sottolineare che il comitato di democrazia per la Costituzione è un comitato che aderisce a livello locale ma è un comitato che è stato costituito a livello nazionale presieduto dall'onorevole, dal presidente Gallo, presidente della Corte, emerito della Corte Costituzionale. Sono due i comitati che si sono creati, che fanno a capo proprio a questo coordinamento che ha sede presso l'AMPI provinciale Alfavaro. All'interno di questo coordinamento si è costituito un comitato di referendum per il no, per l'abrogazione della legge costituzionale. E un altro comitato invece dell'Ictalicum per abrogare la legge elettorale che era stata approvata l'anno scorso, mi sembra il 15 di maggio. Detto questo io penso che sia necessario che la popolazione intervenga per capire quali sono le ragioni per cui saremo chiamati a votare a ottobre per quanto riguarda la riforma istituzionale, cioè la modifica della Costituzione. E l'anno prossimo si prevede di poter andare a referendum per l'abrogazione della legge elettorale.